Siamo con Davide Carucci, lui è uno degli otto ragazzi che ieri sera hanno montato i tori, per cui Rodeo. Ciao a tutti, mi chiamo Davide Carucci, sono uno dei pilastri più importanti del Rodeo, in quanto sono 15 anni che faccio il Rodeo, cerchiamo di dare il meglio sempre e comunque, anche perché nel Rodeo non si scherza, o fa il meglio sempre o meglio evitare. Ti avevi visto ieri sera sui tori, oggi ci farei vedere il bronco, quale delle due monte ti piace di più? Allora, una volta montavo sia i tori che i bronco, con i bronco ho trovato tante soddisfazioni, però per la brutalità, la violenza che il bronco dà rispetto al toro è superiore, ho dovuto mollare per varie fratture prese, però io non saprei quale scegliere. Al momento continuo a fare bull riding, perché è la disciplina dove riesco a ottenere ancora dei risultati, anche perché alla mia età, 34 anni, sono già un veterano, un vecchietto, come dicono i miei compagni, e quindi le botte le sento molto di più di loro e i bronco non potrei più sopportarli. Grande preparazione fisica, palestra tutti i giorni? Non dico tutti i giorni, ma un giorno sì, un giorno no, poi la preparazione sul cavallo, perché facciamo degli esercizi uguali a quello che vai a portare sul toro, però si fa sul cavallo, quindi un giorno sì e l'altro pure ci si allena. È una vera e propria competizione, una vera e propria preparazione, atleticità pura, quindi bisogna in continuazione allenarsi. Un'associazione che governa tutto il rodeo in Italia? In Italia c'è l'IRCA, l'Italian Rodeo Cowboys Association, è l'associazione che è la prima associazione nata per il rodeo, poi ne sono sorte altre, ma non hanno continuato. Questa qui è l'associazione italiana che continua a durare nel tempo e dà più soddisfazioni, anche a livello europeo e anche a mondiale, dato che io stesso sono riuscito grazie all'associazione ad andare a fare i mondiali in Brasile, quindi devo anche all'associazione la mia riuscita, la mia preparazione. Grandi ricordi, è bellissimo questi mondiali fatti appunto in Brasile. Sì, sono stato invitato due volte, una nel 2008 dove non sono riuscito ad andare per una frattura sempre e nel 2011, nel 2011 sono andato, siamo entrati in semifinale e non sono riuscito ad andare oltre perché lì il livello è veramente alto. PBR, quindi chi lo conoscesse saprebbe già di suo, grandi tori, grandi emozioni, folla, uno stadio enorme, non si può dire altro. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi, arrivederci, ciao.